Cari amici di Vox Italia, buona domenica. Queste comunicazioni del Presidente saranno diverse dal solito, perché queste comunicazioni vogliono lanciare un allarme, un allarme molto serio, molto importante rispetto al grave e difficile periodo storico che stiamo vivendo. Come sapete si moltiplicano gli episodi di censura, non sono più tollerate le voci scomode, i media tradizionali, quelli che sono in mano all'oligarchia dominante, hanno avviato una feroce e continua campagna di demonizzazione contro tutti quelli che non si allineano al volere del pensiero unico. Prima in rete venivano tollerate delle voci dissonanti, adesso neppure questo è permesso. È quindi un clima davvero grave, davvero difficile, che non bisogna sottovalutare. Nei giorni scorsi, come saprete, a Berlino si è svolta una bella, pacifica, serena e colorata manifestazione di piazza. Tanta gente, non tutti, diciamo, tanti cittadini, non tutti caratterizzati politicamente si sono riuniti per chiedere al governo Merkel di non accentrare tutti i poteri cavalcando l'emergenza coronavirus. Questi cittadini tedeschi che conoscono evidentemente la storia hanno paura di un eccessivo accentramento di poteri che impone fortissime limitazioni alla libertà di tutti i cittadini. Come sono stati trattati questi pacifici manifestanti? Ebbene, la polizia tedesca ha provato a disperdere la folla che è stoicamente riuscita a resistere, utilizzando non solo in alcuni casi la violenza più bruta, ma perfino degli idrianti. Quindi famiglie di donne, uomini e bambini sono stati investiti da acqua gelata, inzuppati solo per avere resistito di fronte alle richieste del potere. Ora, io domando a me stesso e a voi tutti se è normale che un potere che ha adottato delle misure così stringenti, che vanno a toccare i diritti costituzionali dei cittadini, nel nome della salvaguardia della salute è normale che poi utilizzi acqua gelata da sparare addosso a dei manifestanti a Berlino, in Germania, in pieno autunno, con l'obiettivo di salvaguardare proprio la salute degli stessi al fine, cioè di far sì che questi uomini e queste donne non possano contrarre un virus influenzale o parainfluenzale. Ecco, questo è il livello di menzogna, è il livello di mistificazione che questo sistema di potere ha raggiunto. Il periodo che stiamo vivendo quindi è molto particolare, è molto difficile e molto dipende e dipenderà da quello che accade negli Stati Uniti d'America. Come sapete il sistema mediatico dominante si è subito sforzato nell'assegnare la vittoria a Joe Biden, facendo finta che non sia in corso nessuna grande polemica intorno alla legittimità del voto. Nei giorni scorsi sono riusciti perfino a tacitare, a censurare un'infocata conferenza stampa dei legali di Donald Trump, a partire da Rudolf Giuliani, che hanno indicato precisamente quali sono le prove che loro hanno raccolto per dimostrare l'esistenza di un sistema che ha deviato completamente il risultato del voto. Ebbene, i media cosa hanno fatto? Non si sono limitati a dire che quelli di Giuliani sono delle fandonie, non si sono limitati a riportare in maniera parziale, manipolata o persino a smentire ciò che il team di Trump ha pubblicamente sostenuto. Hanno fatto di più e peggio, hanno cioè completamente censurato il radice a questo ragionamento. Cioè esistono temi che non possono più essere affrontati. Il sistema dei big data non è estraneo da questo modo di intendere l'informazione. Noi abbiamo visto sfilare di fronte al congresso americano tanti amministratori delegati delle grandi società che fanno comunicazione. Queste grandi società godono di un vantaggio, possono, cioè presentandosi come semplici piattaforme, non rispondere dei contenuti che pubblicano. In realtà però stanno sempre di più esercitando un ruolo politico, stanno cioè censurando con sempre maggiore frequenza le voci che non piacciono, dando invece la possibilità a chi è più incline ad appoggiare il pensiero dei globalisti di potersi esprimere in maniera più serena. Abbiamo visto questi grandi personaggi rispondere in maniera un po' imbarazzata alle domande ficcanti, precise, puntuali, che alcuni senatori repubblicani hanno posto nei loro confronti. Non sappiamo però quanto il potere politico riuscirà per davvero a limitare lo strapotere di queste piattaforme. Questo problema non riguarda soltanto gli Stati Uniti d'America, riguarda anche e soprattutto l'Italia. Noi chiediamo quindi come Vox Italia che il Parlamento prepari una commissione formi, una commissione parlamentare di inchiesta che abbia gli stessi poteri della magistratura per capire dagli amministratori delegati nel nostro Paese, di queste grandi società, come loro intendano difendere i diritti costituzionalmente garantiti. Come e se noi abbiamo una Costituzione che prevede la libertà di pensiero e d'opinione, noi sappiamo che nessun potere privato può obbligare al silenzio i cittadini. Quindi ci auguriamo che rapidamente le forze politiche trovino il coraggio e la forza di chiamare anche questi colossi internazionali a rispondere delle loro azioni. Nessun potere privato, per quanto ricco e potente, può calpestare quella che è la cornice di regole che i nostri padri costituenti ci hanno lasciato in eredità. Perché, cari amici, oggi noi viviamo sottomessi ad un potere così pervasivo, un potere senza volto, un potere che non riconosce leggi, un potere che sembra davvero inarrestabile? Perché manca la capacità della politica di dare rappresentanza agli interessi dei singoli cittadini? La fine dei partiti politici ha rappresentato un vero dramma per tutti noi. Nel buio della politica, con la fine dei partiti, questi poteri senza volto ci hanno trasformato in sudditi. Dobbiamo perciò invertire la rotta, dobbiamo ricostruire una forza di popolo fatta di cittadini formati politicamente in grado di portare classe dirigente vera dove vengono prese le decisioni. Vox Italia, quindi, è questo, cari amici, è un tentativo di ricostruire quello che altri hanno con malizia sciolto. È un tentativo di difendere gli interessi del popolo insieme, dentro delle sedi fisiche, riproponendo al popolo la possibilità di frequentare dei luoghi che devono diventare di formazione e di mediazione. Nessuno potrà mai tornare a contare, nessun cittadino riuscirà a ritornare protagonista, ad esercitare la sua sovranità pro quota, se prima non ricostruiremo un vero partito degno di questo nome. Per cui io invito tutti voi, invito le migliori energie presenti nel nostro Paese a cancellare, a rigettare una certa forma mentis che consiglia di individuare proprio nei partiti e nella politica il problema. Il problema è semmai la cattiva politica. La politica ha servita ai poteri finanziari, ha servita ai poteri economici. Noi invece dobbiamo riuscire a ricostruire un partito autentico, un partito che non sarà etero diretto dai soliti centri di potere, un partito che abbia la capacità di rappresentare gli interessi degli ultimi, di rappresentare gli interessi dei senza voce, di mettere insieme in una sola parola il desiderio del popolo di ritornare sovrano. Vox Italia vuole essere questo, una comunità di uomini liberi, di uomini che non hanno nessuna intenzione di fare i burattini, di essere manipolati nelle mani di questo potere che ha perso il senso del limite, che ha gettato la maschera e vogliono quindi ricostruire una dimensione per l'uomo e dominata dagli uomini che per davvero credono in un'idea di interesse generale. Non riusciremo a fermare lo strapotere di questi mondi se non ricostruiremo i luoghi della politica. Vi prego di fare molta attenzione a quello che vi sto dicendo perché i tempi sono davvero drammatici. È chiaro che sta aumentando la consapevolezza intorno alla malizia, alla perfidia dei poteri dominanti. Molte persone stanno finalmente capendo di essere vittima di una manipolazione organizzata. Il sistema non riesce più a ricostruire con rapidità delle leadership di cartapesta che vengono rapidamente riconosciute come fasulle per cui il potere ha la tentazione di passare alle vie di fatto. Dopo la censura è possibile che chi oggi comanda, pur di non cedere il potere stesso, utilizzi degli strumenti ancora più pericolosi. Cerchiamo di porre fine a questa deriva insieme rispondendo alla loro malizia con la nostra forza, con il nostro coraggio, con la nostra passione, con la nostra capacità di stare insieme, con la nostra capacità di servire la verità contro i loro interessi fasulli. Non lasciamoci intimidire da un mainstream che oramai mente in continuazione e senza ritegno, non lasciamoci impressionare dai racconti che questi signori che occupano in maniera molto capillare tutti gli strumenti mediatici ogni giorno fanno. Costruiamo una narrazione diversa, basata non sulla suggestione che è quella che cavalcano loro, ma sulla logica, sulla razionalità che è figlia dell'amore per la verità e della serenità di chi discute e di chi non ha buttato il cervello all'ammasso, ma non facciamolo singolarmente, non facciamo sì che ognuno di noi atomizzato, reso solo, slegato da contesti non solo familiari ma anche associativi, partitici, politici e culturali, possa diventare uno strumento inerme nelle mani di chi quotidianamente lo colpisce facendo finta di difendolo. Ecco, Vox Italia è questo, è un'occasione per tutti quelli che non hanno più voglia di essere vittime inermi, di un potere che sta diventando ogni giorno più pericoloso, un tentativo di resistere insieme per ricostruire una dimensione nuova e migliore. Grazie.